Noi stiamo parlando, Francesca, abbiamo parlato sin qui di gol bellissimi dei giorni nostri, anzi del recentissimo passato di ieri, Hernanes ed Osvaldo. Però qualche anno fa... C'è qualcuno che ci ricorda un po' Osvaldo, no? Assolutamente, che ci ricorda Osvaldo, o meglio, Osvaldo tenta di ricordare, no Michele? Un pochettino questo grandissimo campione, ci auguriamo poi che possa Osvaldo nella sua futura carriera interista assomigliargli sempre di più, però un pezzo di storia nerazzurra che è in collegamento telefonico con noi questa sera è assolutamente ancora imparagonabile. Buonasera Roberto Boninsegna, buonasera. Buonasera. Anzitutto un grande piacere averla qui ad Obiettivo Inter, le piace Boninsegna il paragone che qualcuno ha azzardato con Osvaldo, soprattutto anche per la spettacolarità del gol segnato ieri sera da Osvaldo che ha sbloccato Inter Atalanta? Direi che Osvaldo è un ottimo giocatore, è stato un buon acquisto, mi sembra che si stia inserendo bene negli schemi della squadra e credo che nelle tre punte che abbiamo è l'attaccante più da area dei tre, gli altri sono bravi ugualmente, comunque mi piace molto Osvaldo. Bene, non si è sbilanciato giustamente tantissimo sul paragone, non ci siamo permessi così tanto, nemmeno noi di farlo, però il fatto che vada ad avallare a pieno l'acquisto da parte della società di Osvaldo ci fa piacere, perché l'occhio da intenditore è chiaro, le appartiene. Bene, Michele, Roberto Boninsegna di cui adesso avremo modo di vedere diversi gol, uno più bello dell'altro, uno più importante dell'altro, ha segnato proprio la storia nerazzurra. Il primo che vedremo tra l'altro è proprio uno in rovesciata storico che i tifosi dell'Inter amano ricordare, quello dello scudetto del 71 all'ultima giornata, veramente spettacolare ma come tanti gol che Roberto Boninsegna ha fatto a livello di spettacolarità ma anche a livello di importanza. Quello che volevo chiedere a Roberto, ieri qualcuno, anche i colleghi importanti come Mario Sconcerti diceva, analizzando i tre attaccanti dell'Inter, Palacio tra quelli più in lago gli anni, Icardi tra i più giovani e Osvaldo, perché lui per esempio lo ritiene tra i migliori o il migliore attaccante italiano, si può dire che a livello di rosa ad attaccanti l'Inter non ha niente da invidiare a nessuno in Italia. Lei è d'accordo sul fatto che anche prendendo i primi tre della Juve, Tevez, Leorente e Morata o la Roma, Gervinio, Totti e i Turbe, l'Inter è anche davanti a queste squadre come parco attaccanti? Sì, direi che come punte di solito le grandi squadre ne hanno quattro, comunque queste tre sono tre ottimi giocatori che possono competere con le rose delle altre squadre più importanti d'Italia. Tre giocatori di livello europeo. Comunque come settore credo che l'Inter sia coperto, se c'è qualche problema c'è nel settore di centrocampo, di difesa, però l'attacco diciamo che è a posto. Signor Boninsegna c'è anche Toni Laganà che vorrebbe farle una domanda, prego. Buonasera Boninsegna, mi permetto di chiamarla confidenzialmente Bonimba come il mitico Gianni Brera la ribattezzò, quindi per me è un onore stasera poter scambiare con lei qualche battuta. Prima in apertura di trasmissione si parlava di tatuaggi, di Osvaldo e il famoso tatuaggio del Salmone che vorrebbe fare. Secondo me invece noi tifosi dell'Inter abbiamo ben tatuata nel cuore una frase che lei pronunciò alla Juve ci va da lei, quando lo disse a un presidente che le propose di andare alla Juventus in un famoso scambio. L'augurio che io faccio, e mi piacerebbe capire anche la sua opinione, che qualche giocatore all'interno della Rosa dell'Inter possa affezionarsi ai nostri colori, sentirseli tatuati sulla pelle al punto da incarnare il vero spirito del tifoso nero-azzurro. Se c'è un giocatore in particolare in quest'Inter che potrebbe davvero percorrere le orme del vero nero-azzurro? Adesso è difficile, perché quando giocavo io eri legato alla società, c'era il vincolo, era la società che decideva. Come hai detto tu prima, quando ho saputo di andare alla Juventus, a Fraizogli mi disse alla Juve ci va lei, perché io mi sento una bandiera inamovibile dell'Inter, sono nato interista, però quando allora la società decideva di cederti, tu o smettevi di giocare oppure accettavi il trasferimento. Adesso con lo svincolo, dopo la legge du Osmond, adesso un giocatore fa un contratto, può stare sei mesi anche in una squadra, il girone di ritorno lo fa in un'altra squadra, perciò è difficile trovare le bandiere adesso, perché c'è un regolamento nuovo e che penalizza appunto il fatto di essere una bandiera. Comunque sempre, se un giocatore vuole può rimanere a vita, anche che sia d'accordo il suo procuratore. Con noi c'è anche Claudio Segando che vorrebbe fare una domanda. Sì Roberto, buonasera, è un piacere anche per me. Parlavamo prima della Roma, insomma una società, una proprietà straniera che ha impiegato qualche anno per arrivare adesso ad essere sicuramente tra le prime due d'Italia, anche in Europa può far bene. Secondo lei appunto l'Inter con una proprietà straniera, anche con una proprietà straniera, insomma questo progetto prima di arrivare a portare all'Inter al top sia in Italia che in Europa, secondo lei quanti anni ci potrà impiegare questo processo? Sì, Toir è partito abbastanza bene, diciamo, perché l'anno scorso è stato un campionato disastroso. Sono arrivati dei giocatori importanti, certo che poi dopo dipende sempre dalla voglia che ha da spendere dei soldi. Comunque quest'anno ha già fatto bene, diciamo che la squadra può, nelle prime cinque possiamo arrivare a terzi, la Juve e la Roma mi sembrano un gradino sopra, però il campionato può presentare anche delle cose strane e delle sorprese. Però non illudiamoci troppo, credo che l'Inter possa arrivare al terzo posto, sarebbe già un grosso traguardo. Michele ancora per Roberto Boninsegna, poi lo salutiamo. Sì, un'ultima curiosità da allenatore, per esempio nell'ultima partita a Palermo abbiamo visto che l'Inter quando quest'anno ha cercato di sbilanciarsi per dare, anche Mazzari diceva, per dare questa mentalità di volerle sempre vincere, in realtà non c'è stata una grande risposta nell'ultima parte di partita con i tre attaccanti. Secondo lei è riproponibile durante l'anno e che condizioni ci devono essere perché l'Inter possa schierare contemporaneamente Osvaldo, Palasio e Icardi con un 4-3-3? Credo che questa sia una soluzione difficile perché, a parte che l'anno scorso abbiamo fatto troppi pareggi, sì, Mazzari credo che la lezione abbia capita, l'Inter è una squadra che deve imporre il proprio gioco. Credo che comunque con Kovac c'è due punte e Hernane siamo già una squadra sbilanciata in avanti. Credo che la squadra abbia bisogno di un centrocampista regista, quello che probabilmente l'Inter manca ancora. Giocando con due punte, Kovac c'è Hernane, abbiamo Medel che probabilmente è lui che sorregge il discorso in fase difensiva. Siamo sbilanciati un po' troppo, però Guarini sta riprendendo bene, però se vogliamo puntualizzare a questa Inter manca un regista vero, perché Kovac non è un regista, è un trequartista, mi sembra divenire Mazzola. Dall'altra parte ci manca un suore, un pirlo, mi sembra. Grazie. Signor Boninsegna, grazie, è stato davvero gentilissimo. Noi presto, qualora lei ne avesse voglia, veniamo a trovarla a Mantova. I nostri telespettatori ne saranno molto contenti. Grazie ancora. Va bene, grazie. Grazie, una buona serata a Roberto Boninsegna.